Mamma, papà, oggi volevamo andare a giocare con i nostri nuovi amici, sì, con Alessio e Vanessa. Ah sì, quei bambini carinissimi. Per me è ok. Per te, papi? Sì, anche per me. Perché non vi cacciate nei guai e non vi allontaniate? Certo, papà. Ci sono io che controllo tutti. Fidati di me. Ok, raga, andiamo. Ok, George. Direi oro, un po' di relax. Già, cara, direi... penichella in giardino. Ah sì, direi sole, libri, bibite, tanto relax. Sai cosa ci manca? No, cosa? Una bella piscina. Wow, sarebbe da urlo. Ma cos'è questo rumore? Sembra che bussino alla porta con un bastoncino. Sì, con qualcosa di appuntito. Ma che cos'è? Oh, Giorgia, un po' di paura, apri tu. Sì, sì, tranquilla, non ti agitare. Anzi, siediti. Raga? Sì, Pamela? Andiamo a trovare Willy Lorbo? Eh? Sicura? Ah, voi non lo sapete. Abbiamo scoperto che Willy Lorbo è buono. Sì, ci ha fatto anche un regalo. Davvero? Eh sì, un bel castello. Vero, Michael? Eh già. Andiamo, allora. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Andiamo. Eccoci, siamo arrivati. Andiamo a chiamarlo, dai. Willy! 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 Eccolo, raga! Ciao, bambini. Che ci fate qui? Siamo venuti a salutarti e a trovarti. Vero, raga? Sì! Oh, vabbè. Entrate. Vi farò vedere la mia casa. Ah! Aiuto! Ciao amici, iscrivetevi al nostro canale, così potete vederci ancora e vedere nuove puntate. Vi aspettiamo, ciao! Ciao! Ciao!